Un cordiale saluto, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Video 33. In apertura la politica segnaletica in montagna. Durnavalder risponde al ministro Fitto e ripropone il sondaggio sull'uso dei toponimi in provincia. Poi dice se vince il buonsenso l'accordo è dietro l'angolo, ma non comunque nei tempi prestabiliti dal governo. Vediamo. Per nulla intimorito dall'ultimatum lanciato dal ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto, il governatore Luis Durnavalder torna ad affrontare in conferenza stampa l'ormai annoso problema toponomastica. Priorità assoluta quella di trovare una soluzione, ma i tempi e i modi di un accordo, ha detto il presidente della giunta provinciale, non possono essere quelli dettati dal governo. Salta dunque il termine massimo fissato da Fitto a giugno per la messa in regola dei cartelli monolingui in montagna. Entro giugno nessuno sarà in grado di cambiare la toponomastica nella nostra provincia, però una grande parte di tutti i cartelli, specialmente quelli dei parchi naturali, quelli di enti pubblici, sono in tutte e due le lingue, perciò non c'è nessun problema. E' solo che l'Alpverein non ha rispettato dappertutto la toponomastica bilingue, perché lui dice che questa è una cosa privata, non sono obbligato, come io posso scrivere sul mio maso, maso Kofler e non maso Covolo, perché questa è una cosa privata che posso fare, perché sul terreno privato nessuno può costringere qualcuno di usare tutto anche in forma bilingue. La giunta è comunque compatta e continua a sottolineare la competenza primaria della provincia di Bolsano in materia di toponomastica, anche se, ha proseguito Durnavalder, non stanno a intervenire sui cartelli installati con fondi privati su terreni privati, ribadendo che l'obbligo di rispettare il bilinguismo da parte degli enti irresponsabili sarebbe subordinato al ricevimento dei contributi statali. Chi prende un aiuto pubblico fa qualcosa nell'interesse pubblico e l'interesse pubblico è di mettere tutti e due i nomi, non i nomi ma almeno la parte aggiuntiva. Il nome è vero e proprio, quello non è traducibile e perciò non deve essere tradotto, perché questo sarebbe falsificare la storia e questo non vorremmo. Il governatore ha infine ribadito il suo sostegno all'idea dei cartelli bilingui a patto che il buonsenso abbia la meglio. Assurdo ha detto cercare di tradurre il termine Kofler Alma con Malga Kovolo, più giusto e sensato scrivere Malga Kofler.